Le importazioni di armi in Europa sono praticamente raddoppiate nel 2022, soprattutto a causa delle massicce forniture all'Ucraina, diventata la terza destinazione mondiale. Lo rivela il SIPRI, l'Istituto Internazionale per le Ricerche sulla Pace di Sokolma, con un'impennata del 93% in un anno. Le importazioni sono aumentate anche a causa degli acquisti di Polonia e Norvegia. L'invasione russa in Ucraina ha provocato un aumento significativo della richiesta di armi, destinata ancora a crescere, ha spiegato Pieter Wiesman, autore del rapporto. Ucraina, a parte, la crescita delle importazioni europee ha comunque raggiunto un terzo in più nel 2022. L'Ucraina, che finora era un importatore di armi debole, è diventata all'improvviso la terza destinazione mondiale, dopo il Qatar e l'India. Da sola Kiev ha concentrato il 31% delle importazioni europee e l'8% degli scambi mondiali. Secondo l'Istituto di Sokolma, le forniture a Kiev includono soprattutto equipaggiamenti di seconda mano, tra cui circa 230 pezzi di artiglieria americana, 280 blindati polacchi o ancora oltre 7.000 missili anticarro britannici e sistemi antiaerei, in questo caso nuovi.